A Celano, dopo l'inchiesta che ha portato in manette il sindaco Settimio Santiglia a domiciliari e il vice sindaco Filippo Piccone in carcere a Vasto con altre figure coinvolte, arriva il commissario prefettizio nominato dal prefetto Torraco. Sarà il dottor Giuseppe Canale a svolgere le funzioni del sindaco e della giunta per il periodo di sospensione degli amministratori. Intanto anche oggi i carabinieri del nucleo investigativo dell'Aquila, così come avevano fatto ieri, hanno acquisito altri documenti del comune. In particolari di questa indagine sono moltissimi. 500 pagine di ordinanza fitte fitte. L'inchiesta shock che ha dicapitato il comune di Celano vede 25 persone coinvolte in totale, con reati diversi dalla turbativa d'asta al falso in atto pubblico e altro, tanto da mettere in luce un sistema clientelare fatto di amicizie e favori, pilotando questa l'accusa a palti pubblici e di cui Piccone, secondo l'accusa, era il vertice. Dalle pagine emerge proprio la figura apicale dell'ex senatore, un'inchiesta lunga e complessa che ha fatto emergere tantissimi passaggi particolari, iniziata nel 2018 grazie alle dichiarazioni del consigliere di opposizione del PD, Calvino Cotturone, che aveva paventato irregolarità portate avanti dall'amministrazione passata e attuale, tanto che nel 2018, sia a giugno che ad ottobre, c'era stata una prima acquisizione da parte dei carabinieri di documenti in municipio e forse gli indagati avevano già capito di essere intercettati. I carabinieri del luco investigativo, diretti dal Maggiore Edoardo Comandè, hanno utilizzato intercettazioni, appunto, e anche filmate, realizzati proprio nell'ufficio di Piccone, in comune, dove era solito, si legge, ricevere imprenditori, tecnici comunali, cittadini in cerca di lavoro, insomma, decideva lui chi far lavorare, anche nelle cooperative esterne al comune. E infatti, nell'indagine, c'è anche un lungo passaggio relativo a favori sessuali, che una donna avrebbe dovuto fare a Piccone per avere benefici. Piccone, ora in carcere, aveva sempre schivato guai giudiziari seri, dopo le prime notizie uscite nel 2018, diceva fare del bene al reato, accusando la stampa di gettare fango sull'amministrazione. A distanza di due anni in carcere c'è finito, ovviamente con accuse tutte da dimostrare e con un giro di lavori del comune, campi sportivi, scuole, rifacimento del centro, affidati ad imprenditori e professionisti considerati evidentemente amici, secondo un sistema cliente rare, questo si legge nelle carte. In tutto questo, by Lam, ci sarebbero state anche ritorsioni su un dipendente comunale che non era in linea con l'amministrazione. Secondo gli indagati, erroneamente, era lui che faceva denunce ed esposti. Un imprenditore Piccone che ha costruito la sua fortuna a Celano, passando poi da Palazzo Madama a Montecitorio e rinunciando poi ad incarichi politici più alti per occuparsi di Celano. Per l'accusa era lui che muoveva i fili del comune e anche in alcune intercettazioni si evince quando spesso si fa riferimento a Piccone dicendo chiedi a Filippo. Il segretario comunale lo definiva il padrone di Celano, l'imperatore. Ci sono anche altri nomi noti nell'inchiesta che sta facendo parlare e interrogare pure la politica. Grazie. 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 Grazie.